Una doppia festa per il quartiere e la parrocchia perché ricade il sessantesimo anniversario della fondazione di questa parrocchia. Si può dimostrare che anche un quartiere denominato dormitorio invece si può stringere intorno a un evento e può dimostrare che possono esserci delle funzioni di aggregazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.